Salve la gente qui, Marco Vacchiaro e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Oggi siamo sul server Angel Games E andiamo a parlare di almeno 1, 2, 3 Sky Wars Oddio, sono già partito Sono già partito raga? Beh, sì Ma è che potremmo andare Dimmi che ho qualcosa di me No, perché c'è Sì, di meglio adesso Ma quanti gesti ci sono? Ma è patto sto qua Poi mi prendo anche il libro a caso raga Prendiamo su stralla Saliamo anche Intanto ingegno intendo la fare quindi Saliamo Antino, uso la pietra normale Abbassiamo Cioè, shift Shiftiamo Che è meglio Perché raga ho paura Una paura matta che West tuna Cioè, il bel Oddio, no No raga, mi ha visto Sono finito Mi dimentico è un arco Grazie ragazzi Vediamo che sono un nuovissimo video Teteo, basta Non so, non vado mica a riservarti Posso vedere cosa fai Ok raga, avviciniamoci grande Te lo voglio dire No, schifosa Schifosa Oddio, è uno che No raga No, che bello Oddio, cosa sta roba No, schifoso Quello che mi ha ucciso prima Vabbè, torniamo alla lobby Che è meglio Vabbè, torno in lobby Dov'è? Ok Io mi sono già registrato Quindi In teoria Non dovrebbe creare problemi In teoria Guarda che si sta Staggando un po' Perché ci sono tanti Raga ma Ma va Ok Comunque raga Non cliccate mai Nel retorno Appunto Se no vi succede sta roba Che è tornata nella lobby Proprio vera E poi dovete fare tutto Sto lavoro Che ci mette 30 anni A travermi trasportati Dunque non ho capito Perché non è Cosa è sta roba Ok Sì Oddio raga Cosa siamo Cos'è la cacca di Aralo E sta roba Questi marconi No, vediamo Quanti giocatori ci sono Eh sì La madonna Cioè Il primo in teoria Dovrei essere Io non sono io Vai Vai raga 8 6 Vabbè Sono un cacca Anch'io contare all'indietro Scusa God luck and fall Così a caso Oddio Bene raga Partiamo abbastanza bene Abbastanza Non troppo per i miei gusti però Cioè Ma sei incapace Che mamco ti sia Di mettere l'armatura Cioè veramente Sto personaggio incapace Oh no raga Cioè ma cos'è La casa di app Quella dove c'è il nonnetto Che li vuole la casa No perché non ho capito Cioè Dove siamo Sulla casa abbandonata Oddio cosa è sta roba No che bello Ma se no Dio santo Ditemi se non è uguale La casa di app Cioè raga è uguale Manca solamente Solamente i palloncini Ovviamente però Non c'è niente Ah no? Raga stiamo Dove siamo? Cosa stiamo? Grazie ma Non c'ho bisogno Comunque Raga ho paura Perché c'è È un po' buio A dire il vero Oppure spero che tutti Si uccidano Però è un problema Perché Dopo devo uccidere Quella più fo... Così a caso raga Così a caso Ve lo giuro Non me ne ero neanche accorto Ce l'ho trovata Così di colpo No Perché a me Te l'hai trasportato What? Non dimmi che è caduto A te con le spalle No No Il combattimento fra me E questo È morto Raga cosa ho lasciato I tesori I peggio tesori Grazie Grazie Raga hanno ucciso Uno o due Asceglie Cosa Perché mi sta Ho due Ma cosa servono Le buscole Non mi servono Niente Ma vorrei La casa di app Allora Ma sono tutte Le case di app No raga Vi giuro Che non me ne ero Neanche accorto Cioè raga C'era una cesta In sospesa Nell'aria A caso Poi tipo Uno usa Tutti i suoi blocchi E poi se Rendi conto Che c'è Una Del bircio Juventini Che odio La Juve Io odio Anche le bici Perché sono Bianche nere Aiuto E chi è il milanista Metto mi piace E scrive Hashtag Milanista Perché è bello Ah lol Cos'è una torta Di compleanno Andata male Sono un power ranger Voglio un di meglio Cos'è sta roba La cacchetta Sì Comunque raga Siamo tornati Perché Ho stoppato Perché Sennò Ci metteva 30 anni A caricarsi Ok raga Siamo tornati Ho fatto un po' Di legna Sto raccogliando Un po' Di legna Per farmi un punticello Almeno qualcosa Da fare Che prima Neanche ce l'avevo Quindi è meglio Farsi qualcosa E se Sì 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 Adesso Ok Lui Non c'è Mi sembra Quindi Noi ci cheniamo E facciamo Il punticello Basta Nel farti Che sono cadi Il personaggio Grande che lui È là Però chissà Cosa c'è Dentro la cesta Ho un casino Di curiosità Però io attacco La loro base Adesso Uh Subirà un grande Colpo Ma come Ma piuttosto Come cavolo Ha fatto Arrivarcela Cioè Neanche si è fatto Un Boh Sa volare Cos'è caso Ad i poteri Supernaturali Aiuta Se salve che può Lui ha dei super Ha dei poteri Cacchiali Nare Cioè La vera domanda è Lui Ho Ho delle fei No Perché Raga non so Ah ok Adesso sono morto Però L'ho ascoltato E vado No Perché Mi sto qua Boh C'è uno Con il collo In testa Dai 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 Boh Mi sta Apparendo le Mille Tipo Adesso Dico Vi ucciderà Tutti Cos'è Sono già Caduto Ma La stessa Mappa Di prima Boh Raga Non facciamoci Domande C'è Oh Però Diamante Bene Poi Dobbiamo Cercare Di rimontare Di rimontare Non cadere E morire Malamente Come abbiamo appena Fatto Prima Che non voglio Che vi succeda Mai più Aspetta C'è 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 In Minecraft Avete Tutti Dei poteri Sopranaturali Perché Da una Lontananza Enorme Arrivi Alla cosa Che è più Lontana Del mondo Da te Grande La spalla Di diamante Ragazzi Mi sto godendo Tutta la godura Della spalla Di diamante Sono il vecchio Jeff E nessuno Mi può Cidere Con la spalla Di diamante Non si sta capendo Un cavolo Di quello Che sto Dicendo Però Che sia Notta Siamo su Minecraft Tutto Si può Fare Dico Bene Spero Ragazzi Metto 30 anni A raccogliere Il legno Se comunque Ti dovrebbe Anche sanguignare La mano Cioè Scusa Da un pugno A leno Muori Da quando In qua Si ha tre Archi Perché Ho due Archi Boh E è morto Uno Mi è andato Nel diventare Due Archi Cioè Ragazzi Perché Mi stanno Continuando A comparire Cosa A caso Ma Ragazzi Sbaglio Qua sono Io Il centro E c'è Più Roba Bella Perché La mia Precupazione È questa Anche perché Non c'è Nessuno Qua Non Facciamoci Domande Comunque Ragazzi Spero che Questo episodio Di Minecraft Minigame Vi sia piaciuto E quindi Noi ci vediamo Al prossimo episodio Cioè No ragazzi Mi dispiace Ma ho sbagliato Che Do Mi dispiace